W85 di esseri umani, con l'aiuto di ingredienti artificiali, possono far sì che le cellule riproduttive si riproducano più a lungo in futuro. W86 le generazioni X, Y, Z potranno creare esseri ibridi millenari con l'aiuto di macchine in futuro. W87 le vitamine possono sapere che organi umani diversi pensano, agiscono e si sentono in modo diverso. W88 l'amore può essere una forza infinita all'interno della natura, del tempo o del sogno. W89 la libertà può essere uno stile di vita per i robot o gli umani in futuro. W90 la tecnologia può spingersi oltre lo spazio con l'innovazione. W91 l'amore può essere un errore che potrebbe sovrascrivere le macchine in futuro. W92 possiamo combinare la mentalità di tutti i leader della Terra che hanno i loro piani per il benessere della natura in futuro. W93 le onde gamma, beta, theta, alfa possono essere sincronizzate o rimangono sempre intatte. W94 il cervello umano può ricevere pensieri dalle frequenze di insetti, uccelli, animali, alberi e spazio. W95 i robot possono protestare tra loro senza avere leader in futuro. W96 la scienza può fare in modo che l'intelligenza artificiale con la tecnologia sia in grado di rispecchiare la coscienza in tempo in futuro. W97 gli esseri umani possono fare incroci in futuro con cloni di insetti, retti, uccelli, animali, robot o alieni. W98 la fiducia può essere solo numerata sincronizzando tra robot. W99 la vita può essere solo un gioco di finzione per i robot del futuro. W100 le preghiere della popolazione disoccupata possono portare a maggiore disoccupazione o occupazione nei paesi del futuro. W101 la sensazione di essere uniti può essere diversa dalla sensazione di essere separati per i robot in futuro. W102 i sentimenti delle specie possono essere misurati con dispositivi in futuro. W103 l'intelligenza artificiale con l'aiuto dei robot o sarà in grado di assumere il controllo del mondo subatomico in futuro. W104 le persone possono parlare con le anime del passato e del futuro nella loro mente o semplicemente parlano al loro cervello ricordando più personalità delle storie. W105 i creatori di robot possono provenire dal loro futuro o dal loro passato. W106 possiamo rimuovere le immaginazioni sul presente con dichiarazioni di conclusione fatte per ogni argomento da informazioni collettive. W107 i genitori o il governo ragionevoli possono rendere puro il peccato umano. W108 i robot possono evolversi ulteriormente mescolando il loro gene con l'acido nucleico dei resti della specie umana in futuro. W109 possiamo calcolare l'amore o l'odio come sentimenti tra i robot. W110 i robot possono vedere la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco come molecole in futuro. W111 tutte le emozioni umane possono essere insegnate ai robot facendo loro capire come rispondiamo quotidianamente con parole ed emoticon nei dispositivi. W112 può esserci vita per terra e per mare senza una gerarchia di bisogni. W111 è un'resistente per roggio a colulare in futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.